quindi unboxing time unboxing time amiche buongiorno oggi video diverso dal solito andremo a fare l'unboxing insieme della prima parte di campionario di ele non sappiamo cosa ci sia all'interno di questa scatola perché non l'abbiamo ancora aperta e non abbiamo visto la fattura però andiamo a scoprirlo subito insieme che dite iniziamo è una prima parte piuttosto basic perché abbiamo un po di t-shirteria e i toni sono sempre quelli del bianco del nero ok allora iniziamo da jed che ha questo vestitino esatto abitino corto monospalla dettaglio di queste balle dettaglio di balze in questo vestito simile organza quindi super voluminoso è stupendo ovviamente solo nero bellissimo io invece vi mostro questo nuovo coordinato stupendo con il gilet smanicato con dettaglio di cut out elasticato in vita con le tasche a pattina bottoni tono su tono meraviglioso la spallina è costruita e il pantalone qui lo vediamo un po stropicciato da stirare però è una white leg con le pence sulla parte alta e l'elastico solo sul punto vita sul retro lo dico io top bellissimo un po' già qui esatto con una spalla scoperta questo dettaglio di volante sui polsi e il risvolto molto romantico arricciato con orla simmetrico bellissimo ok poi vediamo o questo abito super bello in questo con lo champagne meraviglioso molto fluido ragazze attenzione dettaglio importante alle tasche stra comodo bellissimo da portare di stato con un bel sandro con una bella abbronzatura arricciato così nella parte alta smanicato con spallini sottili regolabili bellissimo veramente super morbido e fluido da portare con una bella ciabattina ci siamo pronte per amare camiciona oversize è una double ma in realtà un pezzo unico nel senso che ha il dettaglio della canottina a costine sotto e cucita appunto questa camicia oversize e lascia praticamente le spalle scoperte e stropicciata è arrivata appena tolta dallo scatolone e lei è una chicca è una bella chicca indossata bellissima ok vediamo un po' di basics come ci piace chiamarli allora allora ragazze amiche no boobs questo top è la vita perché attenzione attenzione ha le coppe preformate cioè è una sempre un top basico in realtà lo è a costine però ha le coppe preformate quindi mi permette innanzitutto di metterlo senza reggiseno tranquillamente e senza far vedere i nipples ok si può dire a questa ora siamo in fascia oraria non protetta ok quindi senza far vedere i capezzolini questo è super super figo crop modellatura alter è super bello bianco e nero continuiamo con un altro basico solamente nero canottina semplicissima con lo scollo tondo e secondo me anche leggermente alter ma magari da qui non si nota io d'estate vivo con queste canotte per me sono la vita e si può mettere sotto qualsiasi cosa e vanno sempre benissimo poi allora vediamo queste magliettine allora tutte queste maglie che vi stiamo facendo vedere sono realizzate in un cotone stretch meraviglioso tessuto stretch belle asciutte come vestibilità e sono veramente veramente belle e comode e confortevoli qui abbiamo un modello crop con la mezza manichina e lo scollo tondo meravigliosa con il dettaglio delle cuciture a vista sul retro sia bianca che nera voglio vedere anche la cuginetta questa qua bellissima ragazze anche lei una t-shirt basica sempre nello stesso tessuto quindi bello asciutto elasticizzato da mettere magari sopra un pantalone bello largo così per andare a fare un bilanciamento di volumi con il dettaglio del drappeggio laterale quindi anche lì con il dettaglino molto 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 carina bianca e nera proseguiamo andiamo a richiamare un po il trend delle gonne tulipano questo è un top bello accollato regolabile al collo e appunto da questo effetto un po a palloncino con l'elastico sul fondo bello un po ballon che poi si può stringere anche al collo un pochettino con l'elina modello tennis anche lei facile facile proprio gonne passepartout da portare nel quotidiano è meravigliosa anche lei elasticata in vita con il dettaglio del logo appunto e anche da mettere con le magliettine che abbiamo appena visto guardate che carina tutto basica un look un po quotidiano scarpina ginnastica e via ok proseguiamo con le t-shirt anche questa è arrivata in maglina di cotone meravigliosa regata modellatura in questo caso più morbida mi starebbe da dio qua sotto eccoci per richiamare la scarpetta e la giacca bella pronta sei e poi vi lascio a te questi ultimi pezzi top arricciato ma solamente uno ha questa schiena scoperta con l'intreccio dello spallino è un mistolino credo non abbiamo guardato la posizione però comunque comunque effettolino esattamente e con questo punto smog sul retro quindi che va bene a vestire bello stretto sul busto molto molto cute niente questo è abbiamo finito speriamo che questo video vi sia piaciuto e ve lo faremo vedere tutti lo satile esatto ovviamente non sono ancora online e prestissimo esatto dateci il tempo andiamo a scattarli e poi li carichiamo speriamo che questo format vi sia piaciuto e in caso ma ci sono sapere esatto che riproponiamo esatto bacio